il rigore netto come possiamo vedere dalle immagini su vidal la scorsa serata si era sullo 0-1 la minuto numero 35 e questo è l'intervento di varenne è un intervento assolutamente da rigore perché varenne interviene timidamente è vero che prende il pallone ma il pallone rimane a disposizione di arturo vidal e ovviamente c'è vidal che viene ostacolato dalla gamba sinistra di varenne quindi rigore solare come possiamo vedere c'è il piede di varenne che va ad ostacolare vidal tocca leggermente il pallone ma il pallone rimane a disposizione di arturo vidal quindi un rigore solare chiaro palese la palissiano per l'inter con vidal che giustamente si arrabbia anche in virtù di quello che era successo alla minuto numero 7 con il rigore trasformato da azar sul contatto barella nacio non si può prescindere da questo per un'analisi quindi non possiamo arrivare a fare dell'analisi andando a prescindere a precludere ad ignorare quello che è successo al minuto numero 35 e quello che è venuto al minuto numero 35 è un qualche cosa di importante siamo in epoca var e ovviamente questi sono episodi che non possono essere più tollerati perché se io ho uno schermo per andare a rivedere quanto accaduto non vado ad espellere vidal che giustamente era imbuffalito ma cerco di non fare quel tipo di errore vado davanti allo schermo rivedo questo intervento se sono un arbitro conosco le regole conosco il regolamento do il calcio di rigore poi si discute di tutto il resto intanto dammi il calcio di rigore al minuto numero 35 se lo trasformo vado sull'1-1 e forse la partita cambia questo è quello che è successo in inter real madrid la scorsa serata con l'inter che poi rimane in 10 sicuramente vidal esagera nelle proteste ha sbagliato in seguito ma giustamente era imbuffalito per un episodio chiaro solare che avrebbe potuto portare l'inter sull'1-1 a 10 minuti dalla termine del primo tempo con una partita ancora da giocare chiarezza trasparenza prima di tutto e questo episodio è chiaro e solare ripetiamo varen è vero prende leggermente il pallone ma il pallone rimane a disposizione di vidal per non essere rigore varen avrebbe dovuto prendere in maniera più importante più vigorosa più marcata al pallone il pallone non essere più a disposizione di vidal allora a quel punto ci puoi mettere il piede ci puoi mettere il corpo ci puoi mettere l'anca non non importa a quel punto non è calcio di rigore ma in questa circostanza varen col sinistro tocca leggermente il pallone il pallone rimane a disposizione di arturo vidal e ovviamente con l'intralcio del piede di varen questo è quello che accade calcio di rigore netto non dato in epoca di var non dato e questo è il fatto più grave calcio di rigore non dato in epoca di var questo è quello che è accaduto l'altra sera in inter real madrid inter che potrebbe essere pesantemente condizionata da questo episodio arbitrale avvenuto al minuto 35 tra inter e real madrid per l'appunto